Le dimissioni del segretario provinciale Giuseppe Lorenzoni, la replica di Silvio Laia, le accuse, mosse di lavorare nell'ombra, la risposta pacata e allo stesso tempo piccata di Angela Mameli, il silenzio di Giacomo Spissu, a cui è stata augurata la prossima pensione. Nicola Sanna, candidato PD alla carica di sindaco di Sassari, con le sue dichiarazioni a tre giorni dal ballottaggio che l'aveva visto prevalere per un cugno di voti, ha scatenato l'inferno all'interno del partito. Forse ingenuamente, forse impulsivamente, l'agronomo sassarese aveva pensato di mettere a tacere le voci che davano per incerto e ancora da verificare il risultato del voto. E così la straordinaria prova democratica del PD si è trasformata in un boomerang intriso di veleni, spassi, un po' ovunque. Ieri c'è stato il tentativo di riportare serenità con l'ennesima nota stampa. Sanna ha confessato dalla cultura democratica americana ho appreso che tra i concorrenti alle primarie, un attimo dopo il verdetto, il perdente, si congratula con il vincitore Noi siamo italiani, scrive, è per carattere un po' sanguigni, ma sempre disponibile a far la pace anche dopo tre giorni di passione. Non mancano le scuse. Sebbene abbia ceduto nei toni, scrive Sanna, so bene che tutti siamo necessari e indispensabili, sono responsabilmente impegnato a rappresentare tutti, sia oggi che domani, nel governo della città. Infine, la chiosa che spiazza. Al segretario provinciale del PD di Sassari Lorenzoni, a quello regionale Lai, rivolgo un appello affinché vi siano più vicino possibile in questa difficile contingenza. Che sia scoppiata improvvisamente la pace? Le prove tecniche di alleanza intanto vanno avanti. Ieri sera si è tenuta nella sede provinciale del PD la riunione di coalizione. Il 25 aprile saranno presentate le liste e contemporaneamente sarà elaborato il programma di governo, ma è come ora per Sanna deve valere lo slogan Sassa riguarda avanti, soprattutto oltre le primarie.